Il grande basket, il derby del sud, la nona giornata della Lega Basket per Riea. Inescusi va dal pala del Mauro di Avellino, Sidi Gas, Avellino, Enel, Brindisi. Dalle ore 18, in diretta su Antenna Sud e in contemporanea streaming su canale85.it. Alle 18.15 il pomeriggio sportivo prosegue su canale85 con i collegamenti in diretta dallo stadio degli Ulidi di Andrea per Andrea Virtus Francavilla e a partire dalle 20 con lo stadio Iacovone per Taranto Lecce.